Buonasera a tutti, la Lapo Polaccia non è morta, lo spirito della Lapo vive in tutti voi, cari visualizzatori. Siamo io Stefano e due new entry, Luca e lui che mi ha specializzato, siamo solo le due, orologio rubato, due e mezza, non lo so. All'overmine da Milano a vedere Garix e Spax, convintissimi di andare a vedere Garix, c'è una Blastermind, si fa cagare. Oggettivamente non è bravo, la Lapo non sono bravo, non se lo caga nessuno. E niente, tanto che questo video ce lo tolgono perché per copyright. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Are you ready for Martin Garrix? Put your telephones in the air. I want to see all those lights in the air right now. So put your lights up, telephones. I want to see those lights in the air. Are you ready for Martin Garrix? One more slide. Rai! 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 Come and answer all the 90's One, two, three, come on You arrived in the rising sun They hit a passenger that I've been taken Close your eyes, let's forget again As you drag me down, I will take you in What are you waiting for? 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 Here I am! Drop your hands! Drop your hands! Drop! Drop! Sì 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 Sì